Salve a tutti ragazzi, un brevissimo annuncio per ricordarvi che stasera, come ogni lunedì sera, siamo in live sul canale Twitch di Glitcherud, che trovate qui è www.twitch.tv. Io, Edux della metodietà di Edux, Mac di Glitcherud e Noradus di Noradus Games. Questa sera partiremo come sempre alle 9.9.10 con The Banding of Isaac Rebirth, con un seed consigliato da voi. Quindi, poi il secondo segmento, tipo verso le 10.20, quando Mac di solito finisce di fare la sua partita, sarà Rampage Night, un gioco uscito adesso dagli Early Access. E veramente ragazzi, molto molto carino, riusciremo a giocare una co-op, praticamente è un Isaac. Stile Secret of Grandia, cioè molto spada e magia, ma molto molto più ignorante. Fidatevi, sarà divertentissimo. Come ultimo gioco, pensavamo di fare Rocket League, dato che Noradus, verso le 11.20, dovrà andarsene, perché Piccino sta studiando per esami e cose varie. Quindi, vi aspettiamo alle 9 su www.twitch.tv. A tra poco ragazzi, ciao! A tra poco ragazzi, ciao!